Benvenuti, benvenuti a tutti Beyond Change, questo è il secondo appuntamento, il secondo webinar dei quattro organizzati da Venice Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione, espressione del sistema camerale del Veneto. Un'attività realizzata, come abbiamo detto anche la scorsa volta, nell'ambito del progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione, finanziato dalla Regione Veneto e anche dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia. Ma qual è l'obiettivo? Beh, innanzitutto motivare le imprese ad innovarsi, a cogliere le opportunità che offrono ad esempio gli strumenti digitali, i nuovi modelli di organizzazione del lavoro, anche la finanza alternativa, spiegheremo anche questo nei prossimi webinar. Allora, parliamo invece di questo progetto, ma che cos'è il progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione. Nasce dalla volontà appunto della Regione del Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia di attivare azioni comuni a favore appunto della internazionalizzazione dell'impresa e del territorio, a favore della cultura d'impresa, della digitalizzazione dei processi, della conoscenza dei mercati esteri e delle occasioni di investimento, però diciamo in chiave multinazionale. Sono coinvolti numerosi attori del territorio, tra cui la finest SPA, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venice-Promex. Aderiscono all'accordo anche Union Camera Veneto, la Camera Artigianale della Regione Istriana e la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia, come porta, come ingresso appunto per l'area dei Balcani. Allora, oggi parleremo di quando la leadership è smart e questo è l'argomento del webinar che andremo tra poco proprio ad affrontare, ma intanto vi do anche, diciamo così, delle anticipazioni dei prossimi webinar. Il 22 novembre l'internazionalizzare con la finanza alternativa a guardare il futuro, il 29 novembre accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export e di penetrazione commerciale, di patrimonializzazione dell'impresa. Allora, entriamo nel vivo del webinar di oggi. Oggi parleremo appunto dello smart working, dello smart management, della gestione delle relazioni a distanza sia con i dipendenti, i collaboratori, con i fornitori, con la rete vendita sia in Italia che all'estero. L'implicazione di questo nuovo modello, di questo nuovo paradigma organizzativo, la managerialità del singolo, il monitoraggio dei carichi di lavoro, lo sviluppo di nuovi manager intermedi capaci di gestire appunto il lavoro e il progetto. E lo facciamo con Laura Venturini, intanto do subito il menù, benvenuto. Grazie. Benvenuta Laura. Allora, intanto presentiamo la nostra speaker di oggi, la nostra relatrice, fondatrice nel 2014 di Quindo, che è un'agenzia SEO senza uffici e con uno staff interamente, possiamo dirlo, al femminile e naturalmente essendo smart work che coordina da remoto. Che cosa fa questa, che cosa fa la Quindo? Allora, aiuta aziende, imprenditori, notti brand a gestire la reputazione online, quindi la web reputation, aumentare la propria visibilità su Google. A dicembre del 2019 Laura Venturini ha anche curato l'edizione italiana di Smart Leader, che è appunto una guida nella, diciamo, proprio leadership da remoto, che è proprio quello di cui parleremo oggi. Laura, io ti ho presentata, ma credo che ci sia molto altro, no? A quello che abbiamo detto naturalmente nella tua presentazione. Io partirei subito con la domanda, quando la leadership è smart? Lo smart working è un tema di grande attualità in questo periodo, comincerei proprio col dire quali sono le motivazioni che spinge, diciamo, un'azienda ad adottare un nuovo sistema di lavoro organizzativo. Mi viene da dire che per noi è nuovo, forse per te non lo è, però ti lascio la parola. Grazie, intanto grazie a tutti e buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Allora, sì, io quando ho deciso di fondare la mia agenzia, la mia azienda nel 2014, non ho avuto dubbi. Io ho voluto fondare un'agenzia completamente in smart working, perché mi sono concentrata su quelli che erano i vantaggi, i vantaggi che credo siano assolutamente, diciamo, rilevanti per qualsiasi tipo di impresa. In primis, la cosa per me fondamentale era poter attingere ai migliori e alle migliori professioniste ovunque avessero deciso di vivere nel mondo, perché per me è totalmente indifferente se una persona che lavora per me vive a Buenos Aires, in Thailandia, a Milano o a Cosenza non cambia assolutamente niente. Quello che conta è che sia la persona più adatta, migliore nel suo campo e che sia adatta appunto a lavorare nel mio staff e che quindi condivida i miei valori, la mia visione di impresa e che sia in grado appunto di portare avanti anche un'attività tecnica molto specifica. Chiaro è che questo mi pone come azienda anche in un grosso vantaggio competitivo rispetto alle altre, quindi io sono attiro, riesco ad attirare grandi talenti, persone con una grandissima professionalità a prescindere appunto da dove vivono e anche rispetto ad aziende magari più grandi rispetto alla mia e magari anche più note a livello di brand, perché offro questo grande vantaggio ai dipendenti, che è una cosa veramente strategica per le aziende. Non solo, lo smart working permette di gestire i flussi in un modo diverso, no? Sicuramente la pandemia ci ha mostrato come in qualche modo sia possibile quando si ha diciamo a disposizione tecnologie anche non particolarmente complesse, gestire il carico di lavoro che si ha in azienda in remoto, quindi in pandemia l'abbiamo fatta a casa, ma di fatto possiamo farlo ovunque ci troviamo. Perché i flussi di lavoro sono più efficienti e quindi diventano un grosso vantaggio per le aziende? Perché ad esempio impariamo a sfruttare meglio la tecnologia, ma soprattutto abbiamo diciamo un confronto con le persone operative all'interno dello staff che si occupano di determinati appunto compiti, di determinati lavori. Uno dei segreti che dico sempre e che diventa un enorme vantaggio per l'azienda e per l'imprenditore è quello di ricostruire il flusso con o i manager che appunto dirigono gli staff operativi oppure direttamente appunto con le persone operative, poi chiaramente dipende molto dalle dimensioni dell'azienda. Un'altra cosa che secondo me è un grande vantaggio da un punto di vista aziendale quello che si crea una vera e propria coesione. Nel momento in cui io condivido un valore, una visione anche del lavoro con le persone che lavorano con me e per me, io vado a creare veramente un team di persone coeso che appunto sceglie, mi sceglie, ci scegliamo e quindi abbiamo una certa visione del lavoro. Questo chiaramente aumenta tantissimo non solo in qualche modo diciamo la durata dell'impiego, no? Quindi in qualche modo io ho azienda, ho chiaramente un dipendente che ha voglia di restare in azienda con me ma in qualche modo aumento anche la produttività perché vabbè ci sono una quantità veramente ormai infinita di studi e di ricerche che dicono che le persone smart working producono meglio e producono di più e poi vabbè chiaramente siamo tutti attenti da imprenditori alla questione della gestione dei costi ed è evidente che in smart working i costi si riducono di molto. Chiaro è che io devo mettere le persone che lavorano per me e con me nelle condizioni di poter lavorare quindi con gli strumenti adeguati ma sicuramente comprare anche il software più all'avanguardia, gli strumenti tecnologici più efficienti ed efficaci mi costerà sicuramente meno che non per esempio acquistare un ufficio anche semplicemente affittabile, avere comunque dei costi fissi quindi sicuramente anche da un punto di vista di costi è estremamente vantaggioso quindi quando io ho scelto di aprire un'azienda non ho assolutamente avuto dubbi in tal senso perché per me veramente quello che contava era la qualità del lavoro che offrivo quindi del servizio che offrivo ai miei clienti ma anche la qualità del posto di lavoro che offrivo alle persone che lavoravano con me perché di fatto io credo che si crea un grande circolo virtuoso, se le persone che lavorano con me sono felici quindi i miei dipendenti sono felici faranno felici i miei clienti, se i clienti sono felici aumenta il fatturato e a quel punto sono felice anch'io e siamo tutti felici. Tra l'altro l'agenzia, la tua agenzia appunto che è un'agenzia SEO quindi un'agenzia di servizi ecco, torniamo indietro perché anche questa per noi è una cosa insomma relativamente nuova e invece tu la conoscevi già nel 2003, adesso è stata veramente una... Diciamo che precedo un po' i tempi su tutto, allora brevemente la SEO di fatto si occupa di appunto ottimizzare i siti web o comunque i portali online affinché siano più ritrovabili dalle persone, di fatto io creo un contenuto o un prodotto da vendere e faccio in modo con la SEO con una serie di attività che hanno a che fare con la tecnologia, con i contenuti e le parole e con tutta una serie di attività anche esterno al sito faccio in modo che siano trovate dalle persone giuste per me che sono quelle che poi diventano i miei clienti e quindi mi aiutano anche lì a aumentare il mio fatturato e chiaramente a livello di soprattutto, io lo dico anche questo, a livello anche di reputazione ormai è fondamentale quando noi conosciamo una persona e quindi stiamo selezionando il personale oppure parliamo con un cliente o qualsiasi tipo di attività andiamo a fare, la prima cosa che facciamo di norma è cercarlo su Google, quindi di fatto sì la SEO serve a questo, a farci trovare nel momento giusto dalle persone giuste. Guardiamo soprattutto le foto della persona che dobbiamo incontrare. Anche sì. Ma senti un'altra curiosità poi che mi viene è che tu sei di formazione diciamo di estrazione una filologa cioè sei lavorata in filologia quindi apparentemente niente sembra così tanto distante la filologia da questi nuovi strumenti così sia modelli di lavoro sia gli strumenti digitali eppure l'origine dell'universo tanto per usare un po' una citazione che conosciamo in campo artistico è partita, la tua origine dell'universo è partita da qui, dalla tua laurea forse, dei tuoi studi. Vabbè io come tutti coloro che studiano lettere o molti di quelli che studiano lettere sognavo di lavorare in casa editrice, fare la scrittrice eccetera eccetera, poi io ho un'altra grande passione che sono gli animali e quindi cercando di aiutare una serie di volontarie romane a far adottare dei cani mi sono posta il quesito ma come faccio a far trovare i cuccioli trovati sulla Cassia a Roma da una signora a Venezia o a Milano che magari sta cercando un cucciolo di simile Labrador e così nel 2003 ho iniziato a studiare appunto la SEO e tutto quello che ha a che fare con i motori di ricerca. A cosa mi ha aiutato la mia formazione umanistica? La mia formazione umanistica mi permette di avere una visione diciamo più a 360 gradi sui problemi, io lo dico sempre cioè oggi più che mai le cosiddette soft skills sono fondamentali nel mondo del lavoro e sicuramente poi chiaramente il lavoro che faccio nello specifico ha anche di umanistico perché comunque i motori di ricerca hanno a che fare con la modalità in cui le persone cercano le cose no? Quindi in qualche modo è uno dei tasselli del mio lavoro semplicemente declinato con uno strumento diverso che è la tecnologia informatica. Infatti questo dimostra che può essere alla portata di tutti, basta comunque calarsi no? non è che ci vuole poi tanto no alla fine. Senti mi viene da pensare proprio questo nuovo modello diciamo di lavoro ma la selezione del personale ad esempio, noi nell'immaginario collettivo tendenzialmente sai vuoi avere la persona di fronte magari anche un po' studiare no la mimica qualcosa e invece che cosa succede? Si può fare tutto? Si può fare assolutamente tutto, non serve vedersi di persona nel senso che oggi abbiamo la possibilità di valutare le persone attraverso chiaramente uno schermo no? Quindi qualcosa che media la comunicazione. Di fatto ci sono molti modi per capire se la persona che stiamo selezionando fa per noi no? Allora ci sono ovviamente dei sistemi anche piuttosto sofisticati di questionari costruiti da psicologi del lavoro e proprio delle diciamo delle modalità dei processi di selezione incentrati sullo studio della personalità quindi con dei quiz che si possono fare online. Io personalmente faccio in questo modo. Io ho un processo di selezione per cui quando ricevo il curriculum appunto del candidato della candidata ovviamente una volta che l'ho letto per esempio per me è fondamentale la modalità in cui viene scritta la lettera di presentazione no? Noi dalla lettera di presentazione io già capisco se la persona che si candida ha letto ad esempio chi sono, quali sono gli interessi della nostra società, se condivide i valori della società quindi in qualche modo è già una sorta di preingresso. Come dicevo prima ormai siamo tutti abituati a cercare su Google le persone ovviamente nel momento in cui devo fare una selezione guardo il profilo LinkedIn del candidato o della candidata e poi inizia la selezione vera e propria quindi invito a fare una conferenza quindi una Skype call o comunque un incontro virtuale e in questo studio soprattutto la persona cioè cerco di capire se la persona con la quale sto interloquendo ha quelli che sono le caratteristiche fondamentali per lavorare in smart working perché? Perché ormai sono otto anni quasi che ho un'azienda completamente senza uffici quindi completamente distribuita in smart working e ho capito quali sono assolutamente le diciamo le caratteristiche fondamentali prima fra tutto e fra tutte la flessibilità no? In qualche modo la pandemia ci ha dimostrato come essere flessibili e adatti al cambiamento cioè sapersi adeguare al cambiamento sia assolutamente fondamentale per poter lavorare anche in contesti dinamici e in cambiamento perché di fatto nessuno poteva prevedere la pandemia ma ci sono tutta una serie di caratteristiche di cui dobbiamo per forza tener conto nel momento in cui siamo mediati no? E quindi lavoriamo a distanza saper comunicare che sembra una cosa banale non lo è neanche quando si lavora in ufficio di fatto saper comunicare bene è fondamentale bisogna essere chiari essere molto concisi precisi quando si fanno delle comunicazioni e chiaramente nel momento in cui io parlo la mia conversazione ha un tono se io ti scrivo un'email dovrò avere un'altra tipologia di comunicazione devo essere in grado di comunicare su più livelli non solo devo essere una persona autonoma in qualche modo mi devo autogestire devo essere disciplinata precisa e poi una cosa fondamentale è anche quella di essere curiosi e creativi perché anzi il fatto di stare in smart working spesso stimola creatività e curiosità nelle persone no? Il fatto di avere di poter autogestire il proprio tempo permette alle persone di tirar fuori anche in qualche modo il meglio no? Delle proprie delle proprie capacità delle proprie competenze queste cose in un processo di selezione si provano ovviamente a intuire poi è chiaro non ci sono solo le soft skill all'interno del mio processo di selezione c'è anche proprio un diciamo un test pratico è chiaro che io faccio un tipo di lavoro per cui è più semplice ma io credo che col proprio reparto risorse umane non sia diciamo impossibile studiare un proprio un piccolo test una sorta di quiz per testare quelle che sono le hard skill invece proprio le competenze tecniche è chiaro che più è chiaramente complessa la mansione o più è diciamo importante il livello quindi della persona che stiamo ad assumere maggiore magari sarà cioè più lungo sarà il processo maggiore sarà il numero di step da fare detto questo si può fare cioè io non so come dire ho assunto delle persone anche durante la pandemia che non ho mai visto di persona perché il mio staff lavora da Nizza a Reggio Calabria e quindi effettivamente sono ovunque però non ho mai stretto la mano a nessuna cioè lo stringerò nelle prossime settimane quando finalmente le conoscerò di persona e nel meeting aziendale ecco non è che non vuoi stringere la mano giustamente non vedi l'ora di conoscerle è che sono talmente tanti i vantaggi da quello che ci ha illustrato finora dell'azienda smart che ovviamente un imprenditore deve tenere conto di questo cioè non senti invece per quanto riguarda la tipologia delle aziende Laura noi adesso come dicevi siamo sempre nell'immaginario nostro abituati a pensare che c'è solo certe aziende possono essere smart come modalità di lavoro ecco che cosa ci dici invece delle aziende che fanno anche produzione che magari nella nostra testa abbiamo più bisogno del contatto fisico di vederci di parlare di vederla come si può ovviare ma in realtà anche questo è un po' un preconcetto diciamo così è chiaro che in aziende di servizi è molto più semplice e lì ci arriviamo tutti in realtà esatto si può in realtà si potrebbe gestire anche se non è così scontato nelle aziende produttive anche questo si può fare soprattutto perché non tutti i dipartimenti hanno la necessità di essere fisicamente per dire nella catena di montaggio o nella catena produttiva c'è un conto è se io costruisco un oggetto ma anche se io dovessi testare la qualità di un oggetto ci sono molti modi per far reperire l'oggetto fisico ora voglio dire Amazon fra tutti ma scendere ci ha insegnato che la logistica e comunque ormai i servizi anche di come dire di trasporti in tempi brevissimi sono possibili voglio dire quanto incide il costo per esempio del trasferire un dato materiale da una città a un'altra o da un continente all'altro rispetto a far venire una persona da un continente all'altro o da una città all'altra cioè effettivamente se si torna al concetto di riduzione del costo e di effettivo beneficio vale la pena cioè secondo me bisogna tenere molto di conto di questa cosa e poi le riunioni se le sappiamo fare bene e le gestiamo bene noi possiamo parlare virtualmente con chiunque ovunque sia cioè una volta che ti faccio reperire dove ti trovi il materiale che hai necessità di visionare fisicamente poi c'è il modo di ora poi siamo nel 2000 quasi 22 nulla esclude che a breve con la realtà aumentata probabilmente non avremo neanche più necessità di toccare gli oggetti magari in un momento futuribile neanche troppo in là chi lo sa però diciamo che sì ci sono molti modi oltre al fatto che le aziende sono fatte di reparti di dipartimenti quindi ad esempio mi viene in mente l'amministrazione oppure le risorse umane c'è necessità di averli tutti chiusi in un ufficio? No, da quello che hai detto no però bisogna costruire dei rapporti di fiducia ecco io credo che sia visto che non ci si può vedere e infatti sì io dico sempre che la sfida dello smart working non è trasferire i processi dall'ufficio allo spazio in cui i dipendenti scelgono di lavorare e vivere la vera sfida è costruire un rapporto di fiducia e costruire un rapporto tale che ci consenta di motivare le persone che lavorano con noi ovunque si trovino nel mondo cioè non importa se io sono a Milano a Padova e la persona che lavora per me è a Buenos Aires io devo essere capace di costruire la fiducia devo essere capace di motivare questa persona a lavorare nel miglior modo possibile come si fa questa cosa? Esatto faccio un esempio Laura perché tu tutti i giorni lo fai questo sì cioè allora per me la cosa più importante è che la persona che dirige l'azienda o il manager che dirige il team di lavoro perché tutti mi dicono vabbè un conto è l'azienda di piccole dimensioni ma saremo tutti d'accordo sul fatto che sì anche le aziende di grandi dimensioni hanno comunque un manager che dirige un'area che è comunque composta da un numero limitato di persone che cosa dovrebbe fare idealmente la persona che guida un team? Guidarlo per l'appunto in senso etimologico e concentrarsi sul come può aiutare le persone che lavorano nel proprio team a rendere il massimo ad essere più produttive più efficienti ed efficaci in ciò che fanno come si fa è facile basta chiedere basta ascoltare veramente bisogna avere un ascolto realmente attivo cioè cosa significa significa che io non ti ascolto per darti una risposta ma se tu dipendente mi stai dicendo che hai difficoltà riscontri delle difficoltà a raggiungere un dato obiettivo ho un dato scopo un dato compito che ti viene assegnato io mi devo porre nel cercare di capire come posso aiutarti quindi nel fornirti lo strumento adeguato e anche nel capire se la richiesta che ti ho fatto è effettivamente sensata o meno perché la cosa che è veramente importante quando si lavora in smart working è concentrare le proprie energie sul condividere gli obiettivi con le persone con cui si lavorano perché se io ho degli obiettivi esagerati rispetto a quelli che sono i reali diciamo obiettivi che può raggiungere la persona che lavora per me sarà sempre frustrata perché non li raggiungerà mai e non andremo mai a creare un rapporto di reale collaborazione e motivazione anzi il fatto di essere molto precisi e magari dopo ne parleremo meglio è fondamentale perché nel momento in cui le aspettative sono ben chiare l'obiettivo è condiviso è chiaro che il dipendente è più motivato a raggiungere lo scopo ed è più in qualche modo proattivo soprattutto poi se come abbiamo detto all'inizio io lo coinvolgo nella creazione del processo di lavoro perché l'abbiamo fatto insieme quindi se tu partecipi alla creazione del processo sarai più stimolato o stimolata nel raggiungere l'obiettivo sì certo perché non ti senti in un ruolo passivo cioè capisco allora a proposito di ascolto di questa è una vignetta direi apparentemente simpatica invece invece contiene una verità assoluta ma proviamo anche a leggerla per i nostri per chi ci sta seguendo in streaming allora il metodo è gentile oltre l'agilità dei processi partiamo dal titolo della tua slide sì di fatto cioè quello che penso io è che bisogna essere gentili quando si ha a che fare con le persone perché ricordiamoci che i dipendenti e le dipendenti sono prima di tutto persone che hanno quindi dei bisogni dei bisogni che vanno oltre le otto ore lavorative una cosa che ha molto cambiato ad esempio la produttività all'interno della mia azienda è stata quella di ascoltare i bisogni delle persone cioè ad esempio c'è chi ha bambini quindi chi ha figli c'è chi ha genitori anziani c'è chi per esempio è più mattutino e chi invece preferisce lavorare la sera non è difficile basta cercare di essere di ascoltare i bisogni dell'altro e per esempio capire che se una persona è più produttiva alle 11 rispetto alle 8 mi è sufficiente spostare l'orario delle riunioni con i clienti o ad esempio semplicemente vado in qualche modo ad assecondare i bisogni di chi effettivamente devo portare il bambino o la bambina a scuola ottimo io faccio in modo di assegnarti degli obiettivi o comunque delle attività da svolgere in un orario diverso questo fa sì che tu fai la tua attività di diciamo genitore in modo sereno e poi quando lavorerai sarai più produttivo perché ti sentirai sereno o serena nella svolgere la tua attività che sembra una sciocchezza ma prima che dipendenti io dico sempre io odio il concetto di risorsa umana perché risorsa umana siamo persone e quindi se io sono attenta alla persona all'essere umano che lavora con me sicuramente anche chi lavora con me avrà veramente un'attenzione nei miei riguardi e in quella dei clienti che sarà altrettanto di valore rispetto a quella che io do a lei o a lui naturalmente queste regole valgono anche in presenza e ovviamente valgono non soltanto allora partiamo Mersi hai una macchina da cucire dice stupita no non è mia capo dice è di mia madre perché non mi fai un costume da patinaggio Mersi io non so cucire capo voglio fare un figurone per la gara che ne dici di un costume rosso continua il capo giusto ecco puoi farmi un vestito rosso pieno di lustrini tu non sai una che ascolta molto capo ecco l'abbiamo un pochino recitata però insomma è giusto per dire che l'ascolto è importantissimo ascolto attivo come posso aiutarti a esatto cioè è inutile che sì ok io posso avere la macchina da cucire ma se non so cucire è inutile mi stai assegnando un compito che non solo non so svolgere e che quindi in qualche modo mi mette in difficoltà ma questo chiaramente non crea un rapporto di fiducia tra me e te tra me capo e te dipendente perché chiaramente ti sto chiedendo qualcosa che va oltre la tua capacità e quindi in qualche modo sicuramente disattenderai le mie aspettative ma anche io capo disattendo le tue dipendente perché vuol dire che non ho capito quali sono i tuoi limiti e quali sono le tue competenze senti prima di passare alla prossima domanda vorrei fare un piccolo passo indietro tornando più o meno alla prima domanda che ti ho fatto ma le aziende quello che noi facciamo adesso a parte è smart working questa è una bellissima domanda no nessuno in pandemia ha fatto smart working che cosa ha fatto? hanno fatto telelavoro perché? qual è la differenza? allora il telelavoro consiste nel trasferire a casa i compiti che si svolgono in ufficio quindi avere gli stessi orari di lavoro e lavorare con le cosiddette ore uomo cioè vengo pagato per le ore che svolgo lo smart working non ha niente a che fare con le ore lavorate o il luogo in cui io svolgo il mio compito lo smart working si basa sul lavoro per obiettivi quindi tutta la mia attività io la posso svolgere negli orari che preferisco e chiaramente nel luogo che preferisco di fatto io non ho l'obbligo di lavorare dalle 9 alle 18 né dalle 9 alle 18 quindi non è legato all'orario è proprio legato a quando raggiungo il mio obiettivo questo perché è fondamentale? perché essere smart per esempio come dicevo prima è lavorare nell'orario in cui si è più produttivo cioè io lo so quando sono più produttiva io per esempio sono una che preferisce lavorare di più la mattina a determinati compiti mentre il pomeriggio lo dedica ad altri mi conosco e quindi gestisco in questo modo il mio lavoro non è detto cioè oggi sto lavorando dal Veneto ieri lavoravo da Milano nei prossimi giorni sarò a Bologna cioè di fatto io comunque raggiungo i miei obiettivi comunque svolgo le mie attività a prescindere da dove sono questo è essere smart e concentrarmi sugli obiettivi del lavoro non le ore che lavoro anche perché sembra una cosa tautologica e un po' sciocca ma di fatto quello che io riesco a svolgere in 4 ore c'è chi magari lo svolge in una o chi lo svolge benissimo in più giorni e chiaramente ecco perché dicevo prima è importante parlare e condividere gli obiettivi e le aspettative sì poi immagino anche la curiosità che mi viene un po' anche da giornalista è che ci si organizzi anche a casa cioè c'è tutto probabilmente un rituale per riuscire a produrre di più a stancarsi di meno con il mezzo del computer insomma è tutto molto adattabile si può fare anche le resistenze che possiamo un attimo opporre perché per forza non è un metodo che ancora credo che siano superabili da quello che dici abbiamo capito che insomma sì no sicuramente si gioca molto su tanti piani in qualche modo è vero che si ha una sorta di resistenza anche legata proprio allo strumento noi ci immaginiamo andare in ufficio in giacca e cravatta oppure ben vestiti con la nostra tuta della roba questo vorrei affrontare con te poi il nostro magari modo di intendere un look che deve essere professionale sì 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 è professionale ma magari si può fare anche una cosa diversa no ma la cosa interessante è questa se io sono mediato da uno schermo io comunque sono sempre io cioè io dipendente comunque ho degli obiettivi da raggiungere io capo ho sempre delle informazioni da dare cambia il modo in cui lo faccio ma non cambia cioè l'obiettivo finale del lavoro evidentemente chiaro è che ad esempio all'interno della mia azienda c'è chi ama i pai la pua c'è chi ama essere sempre perfettamente truccata e bellissima quando fa le riunioni di team c'è chi ha il gatto in braccio è assolutamente non so come dire è l'espressione di chi siamo e quindi in qualche modo abbattono anche dei muri questi animaletti in casa a volte sì no certo diciamo che la pandemia e il telelavoro ci hanno buttato in questa dimensione che per alcuni è stata traumatica perché c'è anche da dire che chi non è abituato nella gestione dello spazio del lavoro si è ritrovato magari con i bambini urlanti nella stanza, il gatto che passava e quindi non è stato in grado di organizzarsi ed è questo che ha spaventato e per tornare alla domanda sì è necessario crearsi un proprio spazio di lavoro ecco perché la differenza anche con telelavoro e smart working è importante perché di fatto se io sono abituata a lavorare smart magari il mio ufficio è il mio computer il mio cellulare e i dispositivi di cui ho bisogno li apro in questa stanza e posso lavorare chiaro è che se sono chiaramente abituata a farlo lo faccio quotidianamente sono una dipendente magari non ho necessità di viaggiare o spostarmi per lavoro io mi creo il mio spazio in casa perché? perché ad esempio lavorare sappiamo tutti che lavorare molte ore al computer da proprio dare problemi alla vista, alla schiena quindi in qualche modo io mi creo il mio spazio ideale che ovviamente è l'ideale per lavorare è diverso da ognuno di noi c'è un altro dei motivi che a me ha spinto personalmente a scegliere lo smart working è che io quando ho lavorato in azienda perché prima di fare l'imprenditrice ho lavorato tanti anni in azienda avevo, lavoravo in uno spazio di cosiddetto open space che per me sono la morte intellettuale nel senso che ho grande difficoltà a lavorare in open space con la scrivania rivolta verso una parete che fermerà oggettivamente alienante anche perché faccio un lavoro che comunque è creativo quindi ho sempre pensato a me alle pareti piacciono che ne so le paperelle colorate e magari la mia dipendente invece lavora meglio se dalla finestra vede il porto di Napoli e un'altra lavora meglio se alle pareti ha solo riproduzione di quadri di Kandinsky a me cosa cambia? di fatto ognuno ha il proprio spazio ideale di lavoro c'è chi ha bisogno dell'assoluto silenzio chi invece sceglie di avere la musica in sottofondo a me cosa cambia? niente l'importante è che raggiungi l'obiettivo chiaro è che lato dipendente invece è importante che io imprenditore ti dia tutti gli strumenti per chiaramente crearti la postazione ideale per cui ti fornisco tutto ciò che ti è necessario per lavorare strumenti che hanno a che fare che ovviamente a seconda del settore saranno strumenti diversi ma che ti permettono di lavorare perfettamente da casa come se tu fossi alla scrivania dell'ufficio però con appunto l'agio e la comodità di autogestire il tuo spazio sì c'è una grande libertà mentale vero in questo nuovo modo di pensare il lavoro in effetti tenendo sempre che conto dell'internazionalizzazione quindi lavorare le aziende che devono comunque calarsi in questa realtà all'estero e con lo smart working quindi cambiano i processi aziendali e non c'è niente da fare la gestione delle relazioni a distanza sia con i fornitori sia con i dipendenti collaboratori e con le reti vendita italiane ma anche quelle all'estero appunto questo che implicazioni ha Laura? beh allora in primis la cosa da tenere bene diciamo sempre a mente è che la nostra comunicazione come vi ho detto e vi ripeterò fino alla fine che è uno sfinimento è che è mediata in qualche modo io sono mediata dal computer sia che facciamo una videoconferenza o che ti scrivo una comunicazione io sono mediata da uno schermo questo cosa implica? implica che io devo essere più brava a comunicare devo essere più precisa sembra una sciocchezza ma veramente una virgola cambia il senso di una frase quindi nel momento in cui io comunico devo essere molto attenta a come lo faccio devo essere molto chiara rispetto a ciò che voglio e ciò che mi aspetto quindi questo prima di tutto seconda cosa è chiaro che se il mio team è distribuito su più nazioni nel mondo non è complesso basta avere un gestionale o anche semplicemente ormai qualsiasi smartphone permette di averlo una scheda di riepilogo con i vari fusi orari quindi magari so che un determinato team dislocato nella parte est del mondo avrà un orario e quello dislocato in altre nazioni ne avrà un altro poi voglio dire parliamo comunque di creare per questo dicevo anche prima dei team di lavoro operativi che hanno delle loro procedure in modo tale che possano assolutamente gestire i flussi di lavoro in modo molto molto diciamo fluido e senza perdere ore di sonno esatto no assolutamente no anche perché voglio dire tutti abbiamo clienti all'estero noi abbiamo tantissimi clienti negli Stati Uniti o in Germania o chiaramente in Germania il problema non si pone ma negli Stati Uniti chiaramente c'è un grosso fuso orario non è un problema semplicemente sappiamo che quando abbiamo necessità di parlare con il cliente di New York le riunioni si fanno delle quattro ore pomeriggio in poi quindi ad esempio insomma si cerca in qualche modo di venire incontro alle esigenze di tutti cioè si fa con i clienti con i dipendenti è ancora diciamo ancora più facile perché in qualche modo se siamo stati bravi nell'organizzare il lavoro generale sappiamo già diciamo che possiamo organizzare le cose in un determinato orario rispetto ad un altro però tu hai citato un po' di paesi chi è il paese più smart? è bellissima domanda ci viene in mente l'America ma magari non è così ma in realtà noi italiani saremo quelli più smart di tutti perché siamo famosi nel mondo per essere bravi nel trovare soluzioni creative ai problemi e questo in realtà ci creerebbe un grandissimo vantaggio anche rispetto alle altre nazioni il problema è che abbiamo una grossa resistenza di tipo culturale c'è molto diciamo l'idea che se io controllo le persone allora producono di più non è vero, non è assolutamente vero anzi soprattutto in ufficio si tende a volersi alzare a fare la pausa caffè con i colleghi alzarsi a fumare la sigaretta a interrompere l'attività perché voi pensate che i vostri dipendenti in fabbrica non guardino il cellulare il feed di Instagram lo fanno lo stesso la differenza è che sono chiusi all'interno del posto che decidete voi quindi questa è la differenza e che lo devono fare anche molto in fretta lo devono fare molto in fretta di fatto se io ti do la libertà di gestirti anche il tuo spazio ricreativo in modo autonomo non inficia sulla produttività e sul resto del lavoro quindi assolutamente senti proprio di passare a questa slide che è molto interessante colgo uno spunto che mi hai detto perché le virgole cambiano ecco mi par di capire che è diventato cioè la virgola per te è molto importante anche nella selezione del personale no beh assolutamente sì cioè il fatto è questo se io ho bisogno di lavorare con persone che sanno comunicare bene con me e con i clienti è chiaro che è importante il modo in cui scrivono perché alla fine molte comunicazioni soprattutto con i clienti avvengono tramite mail questo nella maggior parte delle aziende ormai quanto è veramente strategica un'email oggi? tantissimo ma non solo le email legate al marketing ma proprio anche le mail legate alla produttività alla gestione di un progetto o di un lavoro motivo per cui per me è fondamentale la competenza linguistica l'italiano in primis perché siamo un'azienda italiana ma di fatto anche tutte le altre lingue noi gestiamo svariate lingue europee dall'inglese allo spagnolo al francese eccetera eccetera la competenza linguistica per me è tutto perché se io non so comunicare in modo efficiente ed efficace da filologa non potrebbe essere altrimenti ma poi anche da comunicatrice comunicatore non potrebbe essere altrimenti quindi una virgola potrebbe davvero cambiare un destino eh assolutamente sì sì per non parlare della consecucio temporum ecco facciamo un escluso in italiano adesso di linguistica allora Laura io vedo dei punti molto interessanti proviamo a contestualizzarli adesso passiamo infatti a un'altra domanda perché è l'inclusività come valore per raggiungere gli obiettivi ecco l'importanza io credo che dobbiamo partire dal fatto che inclusività è acquisire conoscenze però sì diciamo che oggi si parla molto di diversity e inclusion all'interno delle aziende sempre da un punto di vista come se essere inclusivi sia una sorta di bisogno per essere buoni per essere no in realtà è un grande vantaggio cioè io da imprenditrice capisco che è un grandissimo valore aggiunto cioè io direi che andrebbe anche in qualche modo superato il concetto di inclusività perché la diversità in azienda è un enorme valore voi immaginate di lavorare con dipendenti sparsi nel mondo cosa significa? significa per esempio che hanno usi, costumi diversi dai nostri feste religiose diverse un background culturale diverso e anche un bagaglio esperienziale proprio legato anche alle modalità di lavoro questo portato in azienda così come tante altre diversità che sono la differenza di genere, l'età, l'orientamento sessuale sono tutte cose che portano in azienda un valore aggiunto perché tutto ciò che è diverso ci insegna qualcosa che non conosciamo banalmente ed è diverso semplicemente perché non lo conosciamo quindi secondo me sempre nell'ottica di creare un team coeso effettivamente equilibrato e che comunica in modo veramente rispettoso di tutto quanto, dei bisogni degli altri si può veramente raggiungere degli obiettivi sempre, sempre, sempre più ambiziosi perché nel momento in cui io conosco qualcosa di diverso da ciò che è noto è chiaro che mi sto aprendo una porta nuova una nuova opportunità quindi in realtà io vedo l'inclusività e la diversità in azienda come un'opportunità una grossa opportunità che magari a volte ci lasciamo sfuggire o per magari dei preconcetti o anche semplicemente perché non ci pensiamo e quindi assolutamente sì un'attenzione particolare a questa è chiaro che io avendo un team di tutte donne ambisco ad avere la quota azzurra che mi serve appunto per riequilibrare anche l'inclusività all'interno dell'azienda ma credo veramente che le persone nella loro unicità se valorizzate quindi creando un vero rapporto di fiducia che in qualche modo si viene a instaurare anche semplicemente perché la persona in smart working il dipendente in smart working in qualche modo è già responsabilizzato il fatto di essere autonomo di autogestire il proprio tempo fa sì che la persona diventi una sorta di mini imprenditore di se stesso quindi se siamo veramente bravi cavolo se mi porta valore nella sua diversità magari anche clienti perché no a noi ad esempio capita spesso che persone che anche hanno un ruolo molto diverso ad esempio io ho una ragazza che si occupa di scrivere contenuti quindi non c'entra niente con la sfera commerciale però è molto brava ad esempio a gestire contenuti suoi personali sui social l'altro giorno nel weekend ha trovato una super diciamo occasione di business e praticamente ha creato una connessione super che probabilmente ci aprirà una strada nuova e diversa questo perché lei in qualche modo è responsabile di un'area e si sente in qualche modo ed è veramente parte del team e quindi mi porta valore nella sua diversità per esempio nel seguire una persona che magari io non seguirei sui social banale ma è comunque un valore aggiunto tre lato tu facebook l'hai scoperto davvero prima di tutti no vabbè e parli di social sì no io sono io non sono una grande io lo dico sempre non sono amante dei social però bevo quindi assolutamente sono una persona socievole non amo molto i social perché è un tipo di ecco quello è un tipo di mediazione di vita personale che non amo e poi tendo non lo so anche se non sembra ad essere una persona piuttosto riservata detto questo sono uno strumento utilissimo per le aziende quindi a livello aziendale chiaramente ne faccio ne faccio uso anzi scusa nel 2003 quando tu hai cominciato un po' diciamo a lavorare sulla seo eccetera non c'erano neanche i social no non esistevano esatto quindi hai superato anche ma in realtà la seo mi è servita a questo perché all'epoca non esistevano i social cioè oggi se trovassi un cagnolino un gattino abbandonato lo metterei su facebook o su instagram all'epoca dove lo mettevo quindi per quello ho avuto la necessità di aprire un sito per mettere gli animaletti abbandonati perché raccontavo le storie li facevo trovare ed è molto prima che nasce c'è il 2003 facebook è nato 5 anni dopo 4-5 anni dopo per voi come si dice diventano rami di attività ah certo senti alla luce di tutto quello che ci ha illustrato finora si può parlare di una nuova cultura di impresa? beh assolutamente sì secondo me oggi è importante ragionare in una nuova ottica cioè pensare al lavoro in un altro modo partendo da quelli che sono gli obiettivi e non più le ore lavorate cercando proprio di rivedere il processo di lavoro no? cioè si parla tanto ad esempio dei cosiddetti obiettivi degli obiettivi smart no? il fatto di essere bravi nel gestire l'obiettivo e nel essere in grado di monitorare l'attività no? perché uno dei grandi cruci di tutti coloro che lavorano in smart working e non erano abituati a farlo o che sono passati in modo repentino al teletavoro è ma come controllo i dipendenti? ecco se siete bravi nel condividere gli obiettivi che siano sempre specifici misurabili attendibili quindi sensati rilevanti per il vostro business e con un timing quindi con una data di inizio e fine molto specificata assolutamente sarete in grado di monitorare l'attività di tutti quindi assolutamente concentriamoci sugli obiettivi non più sulle ore lavorate cioè facciamo un salto quantico in questa nuova nuova era quindi assolutamente assolutamente sì per quanto riguarda sì mi ha colpito molto questa sì questa è una citazione di Bauman che mi piace molto e ci credo tantissimo no? cioè il fatto che le relazioni umane quindi anche quelle di lavoro si basano sulla comunicazione quando falliscono spesso perché comunichiamo male io ho tantissimi esempi personali e lavorativi di comunicazioni fallimentari che poi hanno portato a rotture dei rapporti e quando ci ripenso a posteriori dico sempre beh se mi fossi concentrata quanto mi concentro sul comunicare con i miei dipendenti in altri ambiti probabilmente tutto andrebbe benissimo ma questo è veramente importante perché spesso a volte il fatto già solo di essere persone diverse fa sì che abbiamo punti di vista diversi sulle cose e quindi ci rende chiaramente non solo nella testa delle persone che lavorano per me quindi chiedo che cosa può aiutare che sembra veramente una sciocchezza ma a volte fa la differenza questa è la nuova cultura eh già io volevo provato a riassumere quelle che sono per me tre idee che potremmo applicare tutti alle nostre aziende a prescindere dal tipo di azienda che abbiamo a prescindere dai paesi del mondo in cui esportiamo nei quali vogliamo diciamo diventare appunto così portare il nostro il nostro business ci sono tre cose che secondo me sono veramente importanti la prima è il concetto di gerarchia oggi il modello di gerarchia secondo me dovrebbe essere superato dovremmo veramente concentrarci su un modello orizzontale cosiddetto orizzontale egualitario cioè le persone sono importanti a prescindere dal ruolo che rivestono e quello che conta veramente è il risultato il famoso obiettivo di cui parlavamo prima perché perché non è detto che il nostro apprendista non abbia l'idea geniale che può veramente svoltarci il business non è detto che le persone all'interno della nostra organizzazione abbiano non possano portare anche di più di quello che fanno in relazione a semplicemente qual è il loro ruolo io una cosa che dico sempre è che spesso il comparto produttivo soprattutto nelle grandi aziende ma anche nella mia che è piccola cioè che è mediamente piccola non hanno la visione di quello che succede all'apice dell'azienda quindi a volte non condividono cioè non sanno semplicemente quali sono gli obiettivi di business dell'azienda in modo specifico che siano di fatturato di crescita o comunque anche di appunto colonizzare nuovi paesi e questo è un grave errore perché se noi comunicassimo a tutta la filiera quali sono i nostri obiettivi intanto il valore di tutti avrebbe appunto un peso specifico ma poi renderemmo responsabili tutte le persone di quello che è il successo dell'azienda poi attenzione non vi sto dicendo di legare i premi produttivi agli obiettivi generali di business no assolutamente anzi io cerco sempre di spacchettare anche i premi di produzione legati ad aree specifiche questo è molto importante perché alla fine ai noi comunque lavoriamo per il cosiddetto per il denaro e quindi anche questo è importante quindi rendere intanto ovviamente chiaramente pagare le persone equamente a prescindere dal loro genere quindi uomini e donne li paghiamo tutti nello stesso modo detto questo è chiaro che è importante dare dei premi legati agli obiettivi specifici che abbiamo definito prima quindi se io ti do un obiettivo che è misurabile che abbiamo definito insieme che è attendibile che quindi tu sai di poter raggiungere io ti do anche magari a fine anno degli obiettivi cioè un premio pardon sulla base magari degli obiettivi che hai raggiunto questo chiaramente incentiva molto le persone e poi e quindi in qualche modo ti premio a prescindere dal punto della catena nel quale sei all'interno dell'azienda e poi questo sì questo permette anche alle persone diciamo che hanno un livello meno alto quindi che non hanno un livello manageriale magari di essere più produttive veramente più proattive all'interno del lavoro la seconda cosa fondamentale soprattutto quando siamo in smart working è quella di condividere l'esperienza le competenze noi ce lo siamo detti prima la diversità è un valore ma anche la competenza è un valore se io ho un modello orizzontale lo stagista magari ne sa più di me di un dato argomento perché è più giovane perché ha una formazione magari diversa perché è appassionato perché è appassionato di un tema assolutamente quindi una cosa importante che fa molto team perché l'altra grande problematica del lavoriamo a distanza è ma io come formo il team come faccio coesione come faccio a creare un team che funziona in questo modo condividiamo le esperienze condividiamo le competenze creiamo dei momenti delle micro riunioni in cui a prescindere dal grado di appunto che sia all'interno dell'azienda si condivide la propria competenza e questo serve a due cose in primis stiamo dando valore alla nostra alla persona che lavora per noi al professionista o al nostro dipendente dall'altro stiamo dicendo a tutto il resto dello staff che quella persona lì può diventare il nostro referente per un dato problema e quindi se durante la mia attività chiuso nella mia stanzetta dovessi avere un problema proprio su quella cosa mi ricordo quel giorno in cui abbiamo fatto formazione su e magari Pinco è particolarmente competente su una cosa Pallina lo è su un altro però in qualche modo do valore sia alla persona ma creo anche una sorta di circolo virtuoso quindi questa secondo me è una cosa molto importante oltre al fatto che veramente porta vero valore ultima cosa per me nell'azienda una cosa che deve essere assolutamente prioritaria è la gentilezza in primis perché siamo persone e tutti vogliamo essere trattati con gentilezza ma in secondo luogo essere gentili cosa significa? Significa ascoltare gli altri come ci siamo detti prima significa cercare di aiutare le persone a rendere di più ma significa anche creare un ambiente veramente sano di lavoro lavoro in cui le persone lavorano in modo felice e sereno e un dipendente felice e sereno lavora meglio e lavora di più e questo non significa non ovviamente far emergere le criticità lì dove ci sono ma si fanno se fare emergere le criticità con gentilezza sì un'altra cosa molto importante è un altro dei termini riuscire a non ad imporsi ma a dire la propria giusto senza prevaricare io una cosa che consiglio sempre di fare è questa le persone si lodano in pubblico si sgridano in privato questo sia che si lavora in azienda sia che si lavora in smart working bisogna sempre trovare un momento all'interno della propria settimana lavorativa per elogiare le persone con le quali si lavora ovviamente sempre diciamo di fronte agli altri perché assolutamente va fatto e quando però si rimproverano le persone si rimproverano ovviamente sempre nell'ottica del diciamo dell'evento specifico e si fa in privato ok mai in pubblico questo è un atto gentile che può sembrare una sciocchezza ma che fa la differenza perché chiaramente si parla comunque sempre di persone e io trovo che questo sia veramente una chiave di volta ma non solo l'altra cosa che ci si potrebbe impegnare a fare che io mi sto impegnando a fare anche tutto sommato in ottica più recente ho imparato che dedicare dei momenti dei cosiddetti one to one in cui dedico del tempo il mio tempo ad ascoltare le persone ascoltare le persone che lavorano con me e a veramente recepire un feedback attivo su quello che è l'andamento dell'azienda le mie scelte i processi che stiamo seguendo ha portato a tanti cambiamenti ovviamente anche di valore ha portato a tante riflessioni in entrambi i lati e quindi in qualche modo si cresce insieme ovviamente sempre in modo gentile educato e con grande rispetto allora abbiamo visto che il concetto di smart non vuol dire solamente lavorare in uno spazio privato a casa abbiamo visto che include veramente moltissimi aspetti prego c'era un'altra slide pensavo no 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 assolutamente sì sono d'accordo questa è una mia citazione scusate se termino in modo così un po' autoreferenziale ma credo che questo un po' riassuma quello che ci siamo detti oggi e che secondo me sono le cose realmente importanti quello che vorrei che passasse come messaggio è questo lavorare a distanza guidare un insieme di persone che non sono fisicamente nel nostro spazio è importante avere chiarissimo che noi non stiamo trasferendo cose da fare non stiamo ragionando sulle cose che devono fare stiamo cercando di concentrarci sugli obiettivi quindi il nostro compito è quello di essere chiari quando comunichiamo chiari nei nostri obiettivi nelle scadenze e dobbiamo imparare se non lo sappiamo fare a sapere ascoltare perché è veramente veramente importante infatti tu hai puntato molto hai insistito molto sul concetto dell'ascolto senti Laura più o meno in chiusura come possiamo riassumere cioè un'azienda che vuole internazionalizzare con lo smart e questa modalità di lavoro è uno strumento efficiente efficace penetrante come possiamo assolutamente sì perché come ci siamo detti all'inizio appunto possiamo attingere ai professionisti migliori possiamo effettivamente diventare anche più attrattivi rispetto ad aziende che non scelgono lo smart working che anzi no magari costringono in qualche modo i dipendenti in una sede fisica quindi diventiamo più attrattivi verso appunto i professionisti ma altra cosa siamo riusciamo ad essere anche più competitivi da un punto di vista di costi no perché l'altra cosa che non abbiamo detto è che io azienda chiaro che nel momento in cui abbatto i miei costi interni chiaramente aumenta il mio profitto ma posso anche diventare più competitivo da un punto di vista proprio di offerta quindi riesco chiaramente ad avere anche dei costi diversi per chi lavora con me anche in termini appunto per le risorse esatto perché chiaramente c'è più disponibilità esattamente esattamente quindi sì secondo me anche e soprattutto se si lavora insomma d'altronde voi immaginate le grandi aziende anche le multinazionali che hanno più sedi sparse nel mondo cioè di fatto l'abbiamo già fatto lo facciamo già e dobbiamo solo superare il concetto delle mura dell'ufficio bene allora grazie a Laura Venturini ricordo la venditrice nel 2014 appunto che ha fondato Quindo che poi dicevamo Quindo quindi Quindo e che dire siamo arrivati alla fine del nostro webinar come dicevamo prima il secondo di questo ciclo di incontri organizzato da Venice e Promex appunto agenzia per l'internazionalizzazione e oggi in diretta come la volta scorsa e come lo saremo anche lunedì prossimo 22 con un altro webinar che vi ricordo 22 novembre internazionalizzare con la finanza alternativa guardare il futuro e poi avremo appunto ancora un altro incontro intanto vi ringrazio per averci seguito e per averci dato l'opportunità di spiegare che cos'è una leadership smart grazie ancora Laura e buon rientro nel tuo spazio smart e ci vediamo lunedì prossimo qui dallo studio dalla digital Venice Promise arrivederci grazie a tutti e ci vediamo